Il problema degli anziani però è un problema che i politici tutti devono opporsi, non c'è alternativa voglio dire. Allora, gli anziani oltre 65 anni del Veneto sono ormai un quinto abbondante della popolazione e sono, grosso modo, mettendo insieme gli elettori un terzo degli elettori. Per cui una particolare attenzione per questa fascia di popolazione è perché c'è anche un processo di impoverimento che sta colpendo le persone più deboli. Ovviamente il Movimento 5 Stelle è un movimento che guarda di più ai giovani, forse un po' meno agli anziani, però devo dire che Jacopo è impegnato, quindi è stata un'impressione importante, di attenzione. Così i rappresentanti dei pensionati hanno accolto il candidato governatore grillino Jacopo Berti nel primo di una serie di incontri per sottoporre alla politica il disagio degli anziani. I sindacati raccomandano alla giunta regionale che uscirà vincitrice dalle elezioni di rispettare le regole che loro stessi si sono dati, come il piano socio-sanitario e la legge regionale sulla non autosufficienza, iniziative lodevoli sulla carta ma che secondo i pensionati sono rimaste in larga parte disattese. Chiedono inoltre l'esenzione dal ticket sanitario al di sotto dei 36 mila euro di reddito familiare. Proposte da ascoltare con attenzione e da portare avanti secondo il candidato a 5 Stelle che promette di fare il possibile. Per nostra stessa definizione noi siamo portavoce. Il portavoce non è un vezzo stilistico ma è una cosa estremamente pratica. Essere portavoce vuol dire prendere le istanze, per esempio di corpi intermedi, di associazioni, dei cittadini e portarli all'interno delle istituzioni. Quindi lo facciamo già, è il motivo per cui noi siamo nati per fungere da rompichiaccio e riportare le persone e per esempio le associazioni sindacati a tornarsi a sedere nei tavoli dove si prendono le decisioni.